Le nostre attività hanno un forte impatto, sicuramente, perché tutti gli spostamenti di persone e di attrezzature medicinali e altre cose che servono per assistere le popolazioni nel momento delle crisi, naturalmente comportano una grossa produzione di CO2. Quindi è da un po' che MSF sta cercando di capire e stiamo cercando di fare tutto il possibile per ridurre il nostro contributo al cambiamento climatico. Quindi cerchiamo di privilegiare i pannelli solari al posto dei classici generatori che si usavano una volta a diesel, a rasolio, perché nella maggior parte delle nostre risposte d'emergenza di solito andiamo a lavorare in posti in cui l'elettricità non è disponibile o non lo è più a causa dell'emergenza. Se c'è stata un'alluvione o un terremoto, di solito l'elettrica non è più funzionale, quindi dobbiamo crearci noi l'elettricità che ci serve per far funzionare l'ospedale o quello che sia. Adesso cerchiamo sempre di privilegiare i pannelli solari, l'energia solare, cosa che vent'anni fa non si faceva sicuramente, non ci ponevamo questo problema. Abbiamo cercato di riorganizzare anche il movimento di persone che devono intervenire nel momento dell'emergenza, quindi creando dei pool di esperti che si trovano già distribuiti in vari paesi e non come era prima la maggior parte in Europa. Adesso abbiamo persone di tutto il mondo e la stessa cosa per tutti i medicinali, per esempio, o altre attrezzature che dobbiamo usare ed avere pronti nel momento dell'emergenza. cerchiamo di averli già dislocati in varie posizioni in modo da essere più vicini ai luoghi in cui dovranno essere spediti in emergenza quando serve. Sì, c'è tutto un lavoro che viene continuamente fatto per ridurre gli spostamenti di cose e persone, sicuramente.